Ciao a tutti, sono Chiara Lanucara, ho 26 anni e vivo a Roma. Nel 2013 ho frequentato il Master House in Fundraising Management per approfondire le tecniche e le strategie della raccolta fondi e per potermi specializzare in un futuro in questo settore del no profit. Devo dire che a distanza di qualche mese si è rivelata una delle scelte migliori che avessi potuto fare, in quanto è stato un anno ricco di nuove sfide, nuovi stimoli, ma soprattutto di crescita professionale e umana, arricchiedendo ovviamente dalla presenza di uno staff sempre disponibile, dall'alta qualità della docenza e da un network vasto di contatti del settore no profit. Nell'ultima fase del Master Asby ho intrapreso lo stage presso una delle più grandi organizzazioni del settore no profit che si occupa di lotta ai tumori del seno, la Susan G. Com in Italia, presso la quale attualmente sono stata riconfermata con successo e mi occupo di raccolta fondi con le aziende e comunicazione integrata. È per questo che vi consiglio di intraprendere il Master Asby e di iscrivervi, perché se avete un sogno, il Master Asby e il team di Asby vi aiuteranno a realizzarlo. In bocca al lupo a tutti, ciao!